Sì, no, allora che ti fregano. Hai detto? Ah, perché non rispondo? Se ho amato, non posso a me anche lo guarda. Se ho amato, a te lo guarda. No, ti fregano. Io non rispondo, mi fa male i denti, non posso parlare. Fa male. Io non so nulla, non voglio farle a nulla. Non c'è fatto male a nessuno. Abbiamo lavorato, c'è due, è a te. E basta. Se è andato, ti fai a girare. Mi dice, ma lei, io l'ho detto, io non posso guardarmi, fa male i denti. E tu, c'è. Portiamo a casa, dico, da via. E sto. Io sono malata. Ma che a destra, vedete? Adesso, ti chiamano i nomi induttori, ma che io sono tecniche a destra. Io non mi ricordo di nulla, non so nulla. Sono malata io. Ho malata ma neanche di mente, ho una nuova persona a portare. Ho malata ma neanche una cosa. Ho malata di mente e io sono nulla. e a tregnare un pellevato Cristo di Dio non mi raccoglie a far colore non per crescare ma è il mio caso io il suo postore a te non mi fa male non mi fa male non mi fa male questa è finita sentirei quella successiva la bobina 62B è quello relativo a una ulteriore convocazione questa volta da parte del PM ci sono due intercettazioni quella immediatamente prima e quella da rientro dopo l'interrogatorio del PM questo numero ho sconato mi fa male il mio sogno ma è stato una malattia io sono malato io sono malato e non so come dire ho sconato nel caso non so sono malato io sono malato Il pezzo della lavora di... Ma che cosa dici sto? Per tutti che guardano se gli uccide di soffredi di questa famiglia Per tutti i miei correnti e di questo quello di me da E io sono il pezzo E non lo straccio 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 Il concetto è ripetitivo, era giusto far vedere che era ripetitivo. Allora vediamo i giri successivi, cioè la sera del 19 dopo l'interrogatorio davanti al PM. Comunque così per capire di come andò la deposizione, mi sembra giusto dirlo a questo proposito, appena arrivò davanti al PM la signora, confermando quelle cose che abbiamo letto, non trovò di meglio che tirare la borsa al PM. Ecco, questo era il concetto di come si svolse quell'interrogatorio che loro non conoscono perché saggiamente è rimasto nelle carte di chi lo doveva tenere. La signora si presentò avendo delle idee molto chiare, effettivamente l'aveva capita, e all'insistenza del PM reagì nel modo che... Andò ultrapetita, andò ultrapetita, possiamo vedere al ritorno. La signora si stava a vedere se stava andando o no, che stava andando a posta, che stava andando a posta. Ma donna, del ma donna, del ma donna, di mamà, della proporzione, la dottima giornata, la dottima giornata, la dottima giornata, la dottima giornata, e all'insistenza del PM' che s carefulne, la dottima giornata… Non è fatto sia il risultato, ちょーangeri St ainda ha sentito una ליta bandera, Batista binocchio, andare con il Wuerzo della galera, Prunta Maretta Truntoni Sve reverberó se sacarono nire unaaretta da vicende a trees Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.